Grande gioia al Valentino Mazzola di Milena, dove il Milocca del Presidente Venturelli ha festeggiato la vittoria del campionato di seconda categoria con una giornata d'anticipo. Un'ottima cornice di pubblico e la coreografia delle grandi occasioni preannunciavano qualcosa che era nell'aria. L'ultimo ostacolo rappresentato dal cittadinaro è stato superato con molta facilità, con quattro reti siglate da Sardo, Mazzara, Florio e come sempre dal bomber Galluzzo. Un campionato da incorniciare per il Milocca per diverse ragioni, la storica promozione in prima categoria da matricola dopo la vittoria nella stagione scorsa del campionato di terza, il record assoluto di vittorie stagionali, 19 su 21 partite. Insomma, la Milena Biancoverde può esultare di gioia e il sogno di rivedere il derby cittadino con la formazione giallo-blu è divenuto realtà. Presidente Venturelli, grandissima gioia per questo Milocca che conquista la prima categoria con una giornata d'anticipo. Sì, direi veramente un grande successo, soprattutto una grande soddisfazione, anche perché questa squadra è stata impostata fin dall'inizio per centrare quanto meno la promozione. Certo, immaginare ad agosto di vingerla con una giornata d'anticipo era proprio proibitivo, però devo fare veramente un grazie enorme a tutti i miei dirigenti, anzitutto i tifosi e chiaramente anche ai calciatori, perché fin dal primo momento sono sempre stati seri e si sono impegnati al massimo, quindi veramente un grazie a tutti di cuore. L'Oiopolo ce l'ha messa tutta tallonandovi per tutto il campionato, ma sempre da dietro e poi voi alla fine oggi potete esplodere finalmente in una gioia incontenibile. Sì, sì, anche perché l'Oiopolo è stato un degno avversario, anzi è stata l'unica squadra che ci ha battuto, quindi dobbiamo fare complimenti ai nostri amici agrigentini, però noi siamo stati più bravi. A proposito di questo, con questa sono 19 le vittorie in campionato, se non ricordo male, quindi un record sull'altro, perché non si era mai visto in questi campionati di seconda categoria una squadra con ben 19 vittorie su 21 partite, 22 partite. Sì, davvero un record che ci rende ancora molto orgogliosi per quello che abbiamo fatto, però niente, ci siamo meritate tutte le partite, le vittorie, perché fino alla fine abbiamo lottato sempre su ogni pallone e nessun avversario chiaramente ci ha regalato nulla, anche perché il campionato è stato molto difficile, perché è vero, abbiamo fatto il divario noi all'Oiopolo, però fino alla fine per esempio la comunità di frontiera non ha mollato, poi il Ravanusa si è rinforzata, quindi va, è stata una bella battaglia. Qual è stato l'apporto di collaboratori e dirigenti? Qui c'è Nino Saia, lo inviterei a parlare, pure anche lui. Che emozione è questa per te oggi? Un'emozione grande perché insieme a Piero abbiamo costruito questa società, io sono arrivato anche dopo. È un sogno che si realizza. Oggi nel dare l'imbocca al lupo ai ragazzi ho letto un piccolo discorso che avevo preparato io insieme agli altri dirigenti. Loro hanno lavorato molto più di me. Io per motivi di lavoro non sono stato molto presente. Comunque è dove dicevamo, alla fine, se proprio volete ringraziarci in qualche maniera, regalateci il nostro sogno che si chiama Prima Categorie. E così è stato. E questo sogno ve l'hanno regalato senza dubbio. Presidente, adesso c'è la squadra, la squadra si comincia già a preparare per la prima categoria, tra l'altro quasi sicuramente con l'altra squadra del Milena, giallo-blu, il Milena Calcio. Che cosa c'è da aspettarsi per il prossimo campionato? Speriamo di dare vita, anzitutto, a un bellissimo derby perché il derby accende sempre le tifoserie e quindi è un motivo di stimolo per il paese. Chiaramente il Milocco non verrà mai un campionato, diciamo, da metà classifica in su. Lotteremo, lo dico, senza diventare rosso per centrare quanto meno i play-off il prossimo anno. Ah, perfetto. Quindi, grandissime ambizioni già da ora anche per il prossimo campionato di Prima Categoria. Ci terrei a dire che confermeremo tutti i giocatori e faremo qualche rinforzo per chiaramente affrontare un campionato competente e molto più forte rispetto a quello di quest'anno. Un grazie. Io lo volevo fare soprattutto al mister che si è impegnato e che adesso con questa vittoria diventa l'unico allenatore a Milena che ha portato le due squadre di Milena in prima categoria con accesso diretto vincendo tutti e due i campionati. Purtroppo si è dovuto scappare via e non è qui tra noi. Comunque, un grazie anche a lui, un grazie a tutti gli altri dirigenti, a Donofrio, a Carmelo e a Piero e un grazie anche al mio amico Angelo Falzone che ci ha da una mano, anche se sta dentro le quinte. Presidente, per chiudere, a chi dedichiamo questa vittoria? A tutti i miei giocatori del settore giovanile. In primis gli esordienti, piccoli amici e il calcio femminile. Nino, tu? Scusa, è giovanissimo. Io la dedico invece a tutta la popolazione di Milena che così almeno l'anno prossimo potrà vedere di nuovo il suo derby. No perdiamo mai! No perdiamo mai!